Ciao a tutti! Quello che vedete arrivare nello schermo sono io, Piacere, sono Fabio Persico, un reporter del piccolissimo schermo, un BJ del formato verticale, un creator di immagini in movimento accompagnate da scritte fatte a mano, analogiche e digitali, proprio come quelle che vedete qui intorno. Raccoterò The Big Draw tramite delle lettering stories, ovvero un reportage di tutto il festival sottolineato da scritte e disegni. L'evento si svolgerà a Milano al Castello Sforzesco il 15 ed il 16 settembre e poi continuerà in tutta Italia fino al 14 ottobre. Insomma, venite e capirete di più. Un saluto da me, dai miei lettering e dal Caldo Torrido di Milano. Buona giornata!